a fianco di un parco come si fa? eccoci se io apro il banco devo chiedere ogni volta che so e siamo alla fine veloce come voi, avete passato delle notizie che non sono vere capito? così disse il Renzi siete degli zingari e da zingari ci ha messo amici degli amici in modo da amministrare la cosa pubblica vergogna non lo sposto il cassone Daniela a prezzo a prezzo